ciao a tutti ragazzi e ben tornati ancora in navi reak show ragazzi per questo video vi porto una canzone che mi avete chiesto in tantissimi la nuova canzone di stilt ok in collaborazione con bassman e la canzone adrenalina in albania quest'anno non abbiamo più titoli mettiamo noisy adrenalina stilt adrenalina quindi che dire ragazzi partiamo subito con questa nuova canzone prima di partire vorremmo veramente ringraziare tutti per i messaggi per l'iscrizione al canale per i messaggi su mio canale instagram grazie mille a tutti i ragazzi partiamo con la nuova canzone di stil let's go ok ok lamborghini urus ok all black partiamo bene la nuova ross royce con jovers born cosa cosa oh mio dio mi sento così povero adesso ragazzi mi sento così povero lì che qua ha una lamborghini un'altra lamborghini urus una lamborghini urus una lamborghini non so penso che sia la venta d'oro non lo so una mercedes benz modello g abbiamo un beli abbiamo un ross royce e abbiamo un altro beli cosa è vero un po di acqua con il limone ma non ci voglio credere c'è vero un po di acqua con il limone ma non è vero un po di acqua con il limone ma non è vero un po di acqua con i messaggi e Come poter mancare una Ferrari rossa? Come poter mancare una Ferrari rossa? Lamborghini giallo, Lamborghini nero, Lamborghini blu Mercedes Benz, Rolls Royce, Bugatti Cosa? Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Questa canzone mi fa sentire male Che orologio c'ha? Guardate il mio orologio 15 euro l'ho comprato Cos'è? Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Ma pagania Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Pazzesco ragazzi Su winning Grazie Procettate Inizia E non so ragazzi raccontatemi qualcosa in più, tutte queste macchine sono sue, le ha prese in giro, non lo so come funzioni però sono tutte auto stranuove perché li conosco quindi anche la Mercedes è la nuova appena uscita questo modello. Sono tutte auto iper nuove, Ross Royce appena uscita, cioè sono tutte auto uscite nel 2020, pazzesche ragazzi, pazzesche. Oh mio Dio, questo flow così lento, con tutte queste belle macchine è perfetto perché tutte queste macchine si aspetti chissà in cosa e invece c'è questo flow lento qua che va di moda tantissimo. Ehi, mi importa cosa facciano, mi importa meno di quello che dicono, ok? Ok. Oh mio Dio, che bella hamborghini, oh non ce la faccio ragazzi, sono troppo povero per questo video, non ce la faccio. Ma che macchina ha preso, cioè questa è la hamborghini che è appena uscita. Che dire, pazzesca, ragazzi, il video di questa canzone è pazzesca, tutte queste macchine, non lo so, sono tutte auto nuove, iper nuove, non lo so ragazzi, sono sue, le ha prese in noleggio, le ha prese, c'è qualche amico che ha un concessionario, non lo so come funziona però, ragazzi, pazzesco. Io neanche a noleggio riuscirei a prendere ovviamente queste macchine, sono troppo costose per me. Quindi che dire ragazzi, la canzone è bellissima, scu scu scu, Adriana, bellissima, ok? Il video è pazzesco, il video è, non lo so, è pazzesco. Spero vi sia piaciuta la mia reazione, se è così, ragazzi, lasciatemi un commento, iscrivetevi al mio canale, così non ripetete le prossime video reaction su questo gruppo, su tante altre canzoni albanesi, ok? Noi ci vediamo alla prossima. Spero che vi sia piaciuto veramente questo video, iscrivetevi al canale, come vi ho già detto, scrivetemi sul mio canale Instagram, così potete suggerirmi delle belle canzoni di questo gruppo o altri cantanti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao!